Torniamo a parlare del piccolo NPC palo di Telerux alias Lorenzo Barletta, il piccolo caccoletto che gestisce il suo canale composto da fognature, spurghi e sostanze tossiche scatute. Perciò naturalmente non c'ho conto i treni perché c'ho anche mio fratello minore che è anche lui appassionato di treni e quindi lui fa dei bei video di treni. Mentre invece lui vabbè, oltre ai video di treni fa anche altri video, altre cazzate pare. Ho visto che ha attaccato un 3 spotter di nome Vincenzo e TR485, penso che caro Vincenzo abbia criticato i contenuti fatti da quel merdo cucco, parlo di Telerux, perciò naturalmente ha espresso tutto il suo dissenso e soprattutto la sua libertà di espressione. Cosa che il caro caccoletto non, come si dice, non lo ha apprezzato e ha preferito pubblicare i suoi anti-screen definendo, come si dice, il povero Vincenzo e TR485 un bro inferiore. Proprio tu, caro Telerux, che tu dati di inferiore agli altri, altrimenti il vero inferiore sei proprio tu. E noi, il caro Vincenzo e TR485, che ha piena solidarietà anche da parte mia. Perciò, e io ho avuto a che fare con Telerux nel loro gruppo, il loro gruppo fatto da idraulico liquido e bim liquido, quello che pulisce i testi, quindi, anzi, il Riazzurro Vc, il Riazzurro Vc, quello è composto il gruppo WhatsApp di Telerux. Se insieme a questo gruppo di gabinetto c'era anche il caro Mastrolindo, quell'altro 15enne NPC, con il cosino piccolo in mezzo alle gambe e con il cervello piccolo. Parlo di Achille, alias Trenapoli, ufficio al video, che tempo fa mi minacciò di picchiarmi al Brin, o se mi trovavo alla stazione di San Giovanni, mentre facevo le live di Radio Forcella, o sull'autobus 455. e beh, Achille, ti sto ancora aspettando a braccia aperte, quindi sai dove trovarmi e dopo, caro Achille, ti faccio assaggiare la mia specialità, le mie pantofoli puzzolenti, che sicuramente dopo, se ti rifaccio annusare, dopo ti faccio stare bene, perciò e quindi ti sto aspettando, caro Achille, perciò vieni, vieni, tanto sai dove trovarmi, perciò. E quindi io attaccai i cosiddetti escrementi scaduti nel gruppo di Lerux, perché loro difendevano il capo Camorra, parlo di Vincenzo De Luca, il camorrista, quello che ha distrutto la campagna, ha distrutto l'impresa, ha distrutto la sanità pubblica, eccetera, eccetera. Insomma, ha reso la vita impossibile, come sappiamo anche De Luca, è indagato per favorire i nazismi e per le cooperative, perché lui si comprava i dipendenti per ricevere i voti, e poi sappiamo anche benissimo che è indagato per accordi con i clan casalesi riguardanti i rifiuti tossici che versavano nella zona di Casal di Principe, perciò, e c'era anche De Luca, ragazzi, e si dovevano spartersi la pagnotta per assimolare i voti, per essere l'eletto come governatore della regione campagna, il caro capo Camorra De Luca, perciò, e quei ragazzi, e, vabbè, c'erano anche qualche grande, perciò, mi attaccarono, perché io attacchi il capo Camorra, e naturalmente uscita quel gruppo putrefatto, perché, sapete, io in mezzo agli inferiori non mi ci trovo, perciò, preferisco stare in mezzo a gente intelligente e pensante, e no con un branco di NPC putrefatti e con i neuroni bruciati che purtroppo continuano ancora con la relazione e soprattutto appoggiano questi criminali di Stato, perciò, è a caro, il caro Telerux che si permise di attaccare me, dicendo che io faccio disinformazione bene, caro caccoletto, la vera disinformazione la fanno i quelli del mainstream, non certamente io, quelli dei mainstream dico solo un sacco di cazzate, mentre invece dico solo verità e basta, per quelle che stanno facendo e quelle che purtroppo continueranno a fare, vedi quelli che stanno facendo dei cieli, che ci stanno scolando con quelle robacce, perciò, è... E io dico una cosa a Bill Gates, Bill Gates mi stai deludendo come sempre, perché io ti ho detto, devi darci di più a questi NPC, devi dare più gassosi arnone, e... quelli pesanti, non quelli leggeri, perché... perché quelli leggeri purtroppo ci mettono tanto tempo a cadere come le pedine della Godown, ma invece se dai un delle tossi di gassose, quelli pesanti, vedrai che quelli cascano subito, e così dopo ce li togliamo dai Telerux, perciò, e quindi, caro zio Bill, per favore, per l'ennesima volta, cerca di fare qualcosa di bene, e toglierci questi NPC dai maronglass, perché questi ci hanno veramente rotto i grogioni, quindi è... e allora questi inferiori NPC come Telerux, come Telerux, come Telerux, Official Video, e naturalmente ci sono anche gli altri, come Parenzo, come La De Rosa, come Cruciani, come Draghi, e che più ne ha più ne metta, questi qua devono essere tolti di mezzo, anche come Puente, come David Puente, e che più ne ha più ne metta, questi sono personaggi che devono uscire di scena, perciò e quindi, perciò il zio Bill, per favore, dai delle cassusse pesanti, così veramente ce li togliamo di mezzo. Poi un'altra cosa, caro Barletta, purtroppo, come tu sai, è che tu non lo metterai mai, che sei solo un povero idiota, un NPC inferiore, e soprattutto tu non conti assolutamente una mazza di scopa, perciò, e al contrario, io sono più meglio di te, su usare il cervello, e soprattutto, se devo aiutare delle persone, lo faccio, soprattutto a svegliare, a spiegare quello che sta succedendo, e come prepararsi per difenderci dai altri attacchi, perché i nasoni, presto, attaccheranno di nuovo, perciò, non tardi, ma lo faranno, perciò, e tu invece di metterti conto di me, dovessi metterti conto i nasoni, e aiutarci a combattere coloro che ti hanno rovinato la tua vita, caro Telerux, altrimenti, se tu vai conto di me, vuol dire che sei veramente un NPC, ristretto, perciò, e soprattutto, anzi, il reddito di cittadinanza se lo va a prendere il tuo padre, non certamente io, perciò, la carità di stato se lo prende lui e anche te e non io, anzi, meglio morire di fame piuttosto che cercare la carità allo stato, punto, perciò, e prima di chiudere, voglio fare l'ultima cosa, come fa il nostro caro Greg, e lo faccio pure io, ai nostri cari tre Napoli, official video, e Telerux, palosembre di Achille, e di Lorenzo Valletta, quei due, NPC scaduti, e con tripoconcentrato di fetori e maleodoranti, quindi, quindi, caro Telerux e caro tre Napoli, official video, alias Achille e Lorenzo Barletta, una cosa vi dico a voi due, a tomar por culo, ciao!